Le prospettive di sviluppo dell'Interporto d'Abruzzo a Manopello sono state al centro di un incontro a cui hanno partecipato il Presidente della Regione Marco Marsiglio e il Sottosegretario Umberto D'Annuntis. All'incontro erano presenti anche l'ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, il Professor Giuseppe Catalano, coordinatore della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico del Ministero delle Infrastrutture e Mose Renzi, direttore generale dell'Interporto d'Abruzzo. Al centro del confronto l'individuazione degli obiettivi utili alle prospettive di sviluppo commerciale attraverso interventi strutturali e infrastrutturali, tesi anche all'amodernamento dei mezzi e all'incremento del trasporto su ferro.